Intervista ai genitori naturali della piccola al centro di un caso infinito tra affidamento e possibile ritorno in famiglia. Bandito solitario, rapina urlando la farmacia di massensatico, band di urlatori, cerca di fare altrettanti nella banca di Mancasale ma fugge alla vista di un cliente. Tunisino il 19enne ubriaco assona i campanelli di notte, offende la gente, poi cerca di violentare un'operatrice e infine si ferisce con dei vetri. Molta confusione per il quindicesimo censimento generale della popolazione, qualche consiglio utile per evitare ulteriori problemi. Pensionato di Santa Vittoria scioglie un voto alla Madonna per la guarigione da una malattia, un pranzo per 150 persone. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Non c'è pace per Anna Giulia, la bimba di sei anni al centro di un controverso caso, mentre il procuratore del Tribunale dei minori non esclude il suo ritorno in famiglia. In queste ore sarebbe stata d'altra parte decisa la sua adozione. Intanto i genitori e i nostri microfoni non perdono la speranza e annunciano una raccolta di firme. Cosa sta accadendo in queste settimane? Non lo so, ho sentito delle dichiarazioni del procuratore pastore che si è dato tempo sei mesi per verificare le capacità genitoriali o non so cosa, perché non sappiamo effettivamente cosa sta succedendo, ma aspettiamo, aspettiamo con fiducia. Fiducia c'è, speriamo. Che cosa vuol dire essere tanto tempo lontani dalla propria figlia? Che cosa stai provando in questo periodo? Mille, mille pensieri, preoccupazioni comunque come mamma e come persona che può immaginare quello che pensa la bambina, quasi anche una punta di invidia, quasi la gelosia che si affezioni agli altri. Io lo so che il sangue, come si dice, il cuore non guida la ragione, per cui sono sicura che la mia bambina riconoscerà il mio odore. E certo è che il tempo è tanto e lei ha bisogno per sopravvivenza di affezionarsi alle persone con cui sta. Voi però la fiducia non l'avete persa, tra l'altro Anna Giulia ha cominciato ad andare a scuola e vi arrivano anche comunicazioni strane, le ricordiamo? Allora, mi è arrivata la comunicazione di scriverla e di frequenza della scuola, mi è arrivato per la seconda volta un richiamo per le vaccinazioni. Quindi alla puntata di chi l'ha visto avevo dichiarato questo perché la famiglia che adesso è Anna Giulia la vada a far vaccinare, non per fare una polemica o qualcosa al comune o al tribunale. Voi non sapete neanche se a Reggio o fuori a Reggio, non sapete più nulla? No, non so neanche se sta bene, non so se sta male, non so niente. Non sappiamo cosa pensa, non sappiamo cosa prova e non riusciamo a capire che mostri potremmo mai essere per non poter almeno ogni tanto tenere acceso il rapporto con lei, non capiamo. Corona Carapina alla farmacia di via Beethovena, ma sensatico, un uomo alto, brizzolato italiano, ha minacciato con la forza della voce le lavoratrici del negozio, le quali gli hanno consegnato l'incasso, il bandito poi è scappato a bordo di un'auto guidata da un complice. Fallita invece una rapina simile avvenuta alla Popolare dell'Emilia Romagna di via di Vittoria, Mancasale, dove due banditi, avvolto coperto, anche in questo caso senza armi, hanno minacciato gli impiegati urlando, ma sono scappati all'ingresso di un cliente. La scena però è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza dell'Istituto di Credito. Ancora cronaca, ne ha davvero fatte di tutti i colori, un tunisino fuggito da un centro d'accoglienza, ha molestato i reggiani, tentato di violentare una donna, poi si è procurato volontariamente delle ferite alla vista dei poliziotti. Non propriamente un esule o un rifugiato politico, bensì un molestatore, violentatore, alcolista e bugiardo, avendo riferito di essere minorenne per sfuggire a più gravi conseguenze. E la vicenda di un giovane tunisino, 16enne e 16enne, in realtà 19enne, fuggito il 10 settembre dal centro d'accoglienza temporaneo di Catania e purtroppo è capitato ieri notte a Reggio, dove ne ha combinate di tutti i colori. Da prima girovagato per il centro, suonando a caso i campanelli e svegliando la gente, rispondendo a male parole, fortunatamente nella sua lingua. Poi una volta ciuffato a mezzo nudo dalla polizia in via Dimitrov e portato in un centro per minori, ha cercato di violentare sessualmente una donna, operatrice della struttura. Al ritorno della polizia lo straniero ha rotto un vaso di vetro e si è inflitto diverse lesioni alle braccia e all'addome con cocci taglienti. Quindi è stato portato in ospedale in stato di fermo, dove resta piantonato dagli agenti fino alle sue dimissioni. Infine per lui si apriranno le porte del carcere. Molte reazioni al convegno di ieri industriale sulla stazione Medio Padana, il futuro dell'area nord di Reggio. Il presidente CNA Tristano Mussini chiede di mettere l'impresa al centro degli obiettivi e il 12 novembre annuncia un convegno di CNA proprio per ragionare ancora di area nord. La Lega Nord invece per voce dell'onorevole Angelo Alessandri e del consigliere comunale Giacomo Giovannini parla di bocciatura di Del Rio a proposito delle infrastrutture ancora mancanti. Alcuni consiglieri del PDL, Marco Ebuli, Cristian Immovilli e Rocco Gualtieri hanno invece scritto un'interpellanza per conoscere i piani dell'amministrazione sull'area Calatrava. I grillini infine bocciano qualsiasi ulteriore proposta di cementificazione in quella zona. Sta provocando diversi disagi il censimento della popolazione, il censimento generale. Allora in questo servizio di Isabella ha trovato qualche consiglio utile per evitare se possibile ulteriori problemi. Quando ti sei sposato? Se sei sposato. La casa in cui abiti, quanto è grande? Con chi la dividi? È di proprietà? Oppure sei in affitto? E se sei in affitto dove abitavi prima? E quando ti sei trasferito? Quest'ultima domanda è piuttosto singolare, eppure anche questa è prevista nel questionario che quasi tutti gli italiani hanno ricevuto per posta nei giorni passati e dal quale sono obbligati per legge a rispondere a partire dal 9 ottobre scorso fino al 29 febbraio del 2012. Si tratta del quindicesimo censimento generale della popolazione delle abitazioni. Non tutti hanno ricevuto il bustone a casa con il servizio di poste italiane. In questo caso si può scaricare il questionario in internet utilizzando il codice fiscale, oppure nell'ufficio comunale della Galleria Santa Maria Reggio. Stessa modalità per la riconsegna, imposta via internet oppure nell'ufficio preposto dal comune. Il censimento è una fotografia dello stato attuale del nostro paese. Serve per capire quanti siamo e cosa facciamo e come siamo cambiati nell'ultimo decennio. L'Istat infatti lo realizza ogni dieci anni. L'ultima volta nel 2001 furono oltre 54 milioni gli italiani chiamati a rispondere. Uno strumento utile a delineare anche l'occupazione degli immobili. La nostra privacy è garantita secondo le norme vigenti. Il questionario è diviso in due parti. La prima comprende le domande su famiglia e alloggio. La seconda i fogli individuali, uno per ogni componente del nucleo familiare. Da oggi Teletricolore seguirà la risposta dei reggiani al censimento e ogni giorno vi racconteremo cosa funziona e dove invece si inceppa il meccanismo. Domani saremo all'ufficio comunale della Galleria Santa Maria. Il fallimento era stato dichiarato in maggio. Dopo però si è appreso che la IFIR Holding, società reggiana delle costruzioni, aveva un patrimonio immobiliare tra i 30 e i 40 milioni composto da abitazioni di pregio, palazzine e uffici in diverse città italiane. Immobili che erano stati trasferiti ad altre società nell'imminenza del fallimento. A vantare i crediti sono state delle banche. La verifica dei crediti sarà compiuta in marzo davanti al giudice. La società costituita nel 2005 a Reggio risultava avere un socio unico, la fiduciaria emiliana S.P.A., costituita da una sede di professionisti reggiani che agiscono su incarico dei mandanti, cioè i veri proprietari. La pagina della cultura torna al centro fiere di Reggio dal 21 al 24 ottobre l'esposizione Immagina, cioè arte moderna e contemporanea. 12 mila metri quadri di superficie espositiva divise in due padiglioni che accoglieranno 120 gallerie d'arte e 14 case editrici. Giunta la tredicesima edizione torna alle fiere di Reggio Immagina, la mostra a mercato dedicata all'arte moderna e contemporanea, tra le principali manifestazioni artistiche d'Italia. Vicino ai nomi dei classici dell'arte, anche artisti emergenti che nel tempo si sono guadagnati uno spazio importante nel panorama dei collezionisti di opere, a livello anche internazionale. Per questa edizione ci sarà una vetrina dedicata a Emilio Vedova, tra i più grandi espressionisti italiani, Renato Guttuso nel centenario della nascita del pittore siciliano, allo scultore Venturino Venturi e anche un omaggio ai 130 anni di Pinocchio con le sculture di Massimo San Savini. Il viaggio nel mondo dei colori e delle tecniche legate all'arte inizia il 21 e finisce il 24 ottobre. Un messaggio importante a livello di culturale, a livello di arte, a livello di coinvolgimento della città per Reggio Emilia, una manifestazione che tra le prime tre nel settore fieristico italiano per quanto riguarda l'arte moderna e contemporanea. Tre giorni e mezzo di incontri, conferenze, possibilità di visitare le gallerie nazionali e internazionali presenti a Reggio Emilia. La pagina sindacale, buona notizia per i 127 dipendenti della Caprioli Venturini SRL in liquidazione e in concordato di San Martino in Rio ma anche quella di Calepio. Al Ministero del Lavoro si è perfezionato l'accordo sulla cassa integrazione straordinaria per 12 mesi e la procedura concorsuale per l'affitto acquisto dell'azienda. Dunque con la firma al Ministero dal 1 novembre si avvia la fase dell'assegnazione dell'affitto della Caprioli Venturini alla Pozzoni S.P.A. a cui andranno i 127 dipendenti. Ci fermiamo per uno stacco di pubblicità. Riprendiamo il nostro telegiornale riguardando assieme i titoli del giorno. Intervista ai genitori naturali della piccola al centro di un caso infinito tra affidamento e possibile ritorno in famiglia. Bandito solitario, rapina urlando la farmacia di Massensatico, banda di urlatori, cerca di fare altrettanti nella banca di Mancasale ma fugge alla vista di un cliente. Tunisino il 19enne ubriaco, suona i campanelli di notte, offende la gente, poi cerca di violentare un'operatrice e infine si ferisce con dei vetri. Molta confusione per il quindicesimo censimento generale della popolazione, qualche consiglio utile per evitare ulteriori problemi. Pensionato di Santa Vittoria, scioglie un voto alla Madonna per la guarigione da una malattia, un pranzo per 150 persone. Furto all'edicola di via Marmolada e a Reggio dove i ladri hanno portato via il fondo caossa, circa 300 euro. C'è stato però un colpo anche all'asilo di via De Gasperi a barco di Bibiano, migliaia di euro il danno complessivo. Infine a Correggio è stato preso di mira il bar della stazione di servizio in via Modena. Anche qui è stato rubato il fondo caossa. Ora andiamo nella bassa. Un pranzo per 150 persone per ringraziare chi lo ha curato salvandogli la vita e la bella storia di un pensionato di Santa Vittoria e di Gualtieri che è in questo servizio. Ci racconta Antonio Lecci. Rimasto praticamente paralizzato a caso di una malattia nei mesi scorsi, Pari De Ganzerli, Guastallese, noto enogastronomo di professione, ha fatto un doppio voto. In caso di ritorno a camminare un pellegrinaggio alla Madoglia di Playa Mare, alla quale è devotissimo, è un grande panzo di qualità da offrire a tutti coloro, medici, infermeri e fisioterapisti che lo hanno avuto in cura in questi mesi. E la prima parte del voto si è svolta nel grande salone di Palazzo Greppi a Santa Vittoria di Gualtieri dove in oltre 150 tra amici e invitati si sono ritrovati per accogliere l'invito di Pari De, fra loro anche medici, dirigenti ospedalieri, il neurologo Gianfranco Marchesi, fino al musicista e direttore d'orchestra Maurizio Tirelli. Io non sono mai stato malato Antonio e non capivo certe cose, ho svolguto un ambiente particolare che mi ha sconvolto la vita. Da Natale a Pasqua io non mi sentivo bene, però non mi ricoveravano. Poi dopo il 29 aprile mi hanno trovato un ingioma nella spina dorsale e immediatamente mi hanno operato a Santa Maria. Da Guastalla a Santa Maria è venuto dei miei dottori, mi hanno portato là e mi hanno operato. Dopodiché 4, 5, 6 giorni sono rimasto bloccato, sono ritornato a Guastalla e per due mesi non ero paralizzato. Mi hanno fatto tutti i colori, terapie e così, mi hanno messo in pista e mi sono detto, ho pregato la Madonnina di Playa Mare e gli ho detto, cara Madonnina, se ritorno in pista devo venire, faccio due cose, un pranzo per gli amici e chi mi ha salvato la vita e i conoscenti, poi vengo a Playa Mare a portare su un ricordo alla mia Madonnina. Una mattinata nelle laboratori di un grande artista è la storia di un gruppo di alunni che hanno dipinto assieme ad Alfonso Borghi. Dopo il successo della mostra antologica della scorsa primavera, l'artista reggiano Alfonso Borghi torna a Palazzo Ducale di Guastalla, stavolta per fare da maestro agli alunni della quarta elementare della scuola Ferrante Gonzaga. Un invito accolto con gioia dal pittore noto a livello internazionale, che per una mattina si è messo a disposizione dei ragazzi per l'atelier nella bottega d'arte, un laboratorio condotto insieme a un artista nelle sale dell'antico Palazzo Guastallese. L'atelier si è così trasformato nella bottega del famoso artista con cui i bambini hanno lavorato per la realizzazione di un'opera. Alfonso Borghi è molto legato a Guastalla e ha conto con entusiasmo la proposta di incontrare una classe di bambini per illustrare le sue opere e spiegare da dove nasce l'ispirazione. Sono diverse le proposte che l'amministrazione comunale ha presentato alle scuole del territorio, dai nidi alle scuole dell'infanzia e le scuole primarie per insegnanti. Hanno a disposizione un ventaglio di proposte di didattica museale molto vasto, legato in particolare agli aspetti storici e culturali della cittadina sul Po. E non potevano mancare le opere d'arte dei bambini a Palazzo Ducale, con un artista a dare consigli, a osservare, oltre che a mettere letteralmente mano e pennello nelle opere realizzate dagli alunni, che porteranno a casa con una firma d'autore in più, come ricordo di una giornata trascorsa a contatto con un vero artista del colore, dell'immagine e dell'ispirazione. Ci fermiamo per l'ultimo stacco di pubblicità. Il meteo è offerto da Arno. L'informazione di Reggio, il tuo quotidiano di Reggio e provincia. Uno sguardo alle previsioni del tempo sulla nostra provincia per domani giovedì 20 ottobre, se è il mattino che è al pomeriggio, piogge e schiarite, le temperature andranno tra i 13 e i 16 gradi. Teletricolore Meteo Il meteo è stato offerto da Arno. L'informazione di Reggio, il tuo quotidiano di Reggio e provincia. Andiamo verso la conclusione del Tg, prima dei saluti ancora i titoli. Intervista ai genitori naturali della piccola, al centro di un caso infinito tra affidamento e possibile ritorno in famiglia. Bandito a solitario, rapina urlando la farmacia di Massensatico, band di urlatori, cerca di fare altrettanti una banca di Mancasale ma fugge alla vista di un cliente. Tunisino il 19enne ubriaco, sona i campanelli di notte, offende la gente, poi cerca di violentare un'operatrice e infine si ferisce con dei vetri. Molta confusione per il quindicesimo censimento generale della popolazione, qualche consiglio utile per evitare ulteriori problemi. Pensionato di Santa Vittoria, scioglie un voto alla Madonna per la guarigione da una malattia, un pranzo per 150 persone. È davvero tutto anche per questa edizione, grazie della vostra cortesa attenzione, come sempre vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti informativi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.